Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato e ringrazio per questo l'industria varese e tutti gli iscritti al gruppo giovani presenti oggi in assemblea. Sono molto contento anche del consiglio direttivo dei vicepresidenti eletti. Nel biennio 2024-2026 ci concentreremo sicuramente per dare continuità alle attività in corso in previsione del piano strategico varese 2050 e alle attività del gruppo che sono sempre una priorità quali promuovere una cultura di impresa nei giovani e dunque investire in formazione e orientamento.